La Regione Calabria ha stanziato fondi per sostenere le imprese colpite dalle avversità atmosferiche che il 2 e il 3 aprile del 2020 colpirono parte della Calabria Citra. Tra essi figurano Spezzano Albanese, Castrovilla, Ricassano Aloionio, Corigliano Rossano, Altomonte, Terranova da Sibari, Firmus, San Lorenzo del Vallo. E 168 aziende saranno indennizzate con fondi che la Regione Calabria ha ottenuto con grandi battaglie dal Ministero delle Politiche Agricole e integrati da fondi regionali. Quindi un segnale, un messaggio a chi in quella calamità ha perso parte delle proprie produzioni. Altre iniziative in tal senso con gradatorie su altre calamità saranno emanate di qui a breve con una accelerazione importante perché in questo momento dobbiamo dare sostegno alle aziende agricole calabresi perché è un momento di grande difficoltà.